Ciao e benvenuto su Elenco Prodotti. Nel video di oggi daremo un'occhiata alla top 5 migliori masterizzatori esterni per PC e portatili. Dopo approfondite ricerche e test, abbiamo realizzato questa lista in base al prezzo, alle prestazioni e alle diverse situazioni in cui verranno utilizzati. Se vuoi conoscere la disponibilità e il prezzo aggiornato di questi prodotti, clicca sui link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Numero 5 della nostra lista Ceverbatim 43888 Blue Riproduzione Blu-ray Ultra HD 4K USB 3.1 Gennaio 1 con USB CTM 6 livelli di velocità massima di scrittura barra 4 volte per la massima velocità di lettura BDR e barra BDR DL Compatto e leggero Ideale per l'uso con notebook e ultrabook Alimentazione tramite porta USB Nessun adattatore di rete ingombrante richiesto Contiene il premiato software di masterizzazione BD barra DVD barra CD Memorizza fino a 100 GB su un disco BD XL barra 8 media Con il supporto BD XL puoi registrare fino a 100 GB di dati su un singolo disco 4 volte la capacità di un normale DVD E offre 6 livelli di velocità di scrittura per massimizzare la compatibilità Il formato consente inoltre la riproduzione su lettori Blu-ray UHD Permettendoti di sfruttare al massimo le tue collezioni di film in ultra alta definizione L'unità è compatibile anche con i più recenti formati media Come ad esempio i dischi BDR Ultra HD Che consentono di registrare e riprodurre contenuti video in ultra alta definizione Con il supporto di tali formati Potrai sfruttare al massimo le tue collezioni di film in UHD Offrendoti un'esperienza visiva senza precedenti Quarto posto abbiamo Pioneer BD RX di 07 TB Questo TechPulse 120 USB 3.0 3D Blu-ray BD-Romburn Writer È perfetto per il vostro notebook barra ultrabook barra PCC È compatibile con Windows 2000 XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10, Windows Server 2003, 2003, R2 2008, 2012, R2 e Mac OS 8.6 e versioni successive Può leggere DVD, CD e dischi Blu-ray Ha un'interfaccia USB 3 super speed ultra veloce che è compatibile con USB 2 e USB 1 Con questo burner potrete godere dei migliori film in 3D e di una superba qualità audio Non avrete più problemi di compatibilità con il vostro PC o notebook Questo prodotto è stato testato e approvato dai migliori esperti del settore Siamo certi che questo dispositivo soddisferà le vostre aspettative e vi offrirà un'ottima esperienza di utilizzo Numero 3 Abbiamo TechPulse 120 Questo TechPulse 120 USB 3.0 3D Blu-ray BD-Romburn Writer È perfetto per le vostre esigenze di Windows 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10, Windows Server 2003, 2003, R2 2008, 2012, R2, Mac OS 8.6 È compatibile con Apple, Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, LG, Lenovo, Medion, Samsung, Sony e Toshiba notebook barra ultrabook barra PC con una connessione USB Questo TechPulse 120 USB 3.0 3D Blu-ray BD-Romburn Writer È perfetto per le vostre esigenze di Windows 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10, Windows Server 2003, 2003, R2 2008, 2012, R2, Mac OS 8.6 Questo TechPulse 120 USB 3.0 3D Blu-ray BD-Romburn Writer È perfetto per le vostre esigenze di Windows 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10, Windows Server 2003, 2003, R2 2008, 2012, R2 Numero 2 Abbiamo Archgon Star UHD ARCHGON Star UHD External 4K Ultra HD BD Player È un lettore Blu-ray esterno universale per tutte le tue esigenze multimediali Il lettore BD Archgon Star UHD External 4K Ultra HD supporta la riproduzione di quasi tutti I formati di dischi Blu-ray, DVD e CD Può anche riprodurre file video da dispositivi USB e scheda SD Con il supporto per la tecnologia M-Disc, il lettore esterno UHD Blu-ray di Archgon fornisce un modo semplice per archiviare i tuoi dati e contenuti multimediali Tra cui foto, video e musica, su supporti ottici M-Disc che possono durare più di mille anni L'unità consente inoltre la trasmissione di segnali audio e video tramite porta HDMI ad alta definizione a 1080p Garantendo una visione perfetta dei contenuti multimediali Con il lettore esterno Blu-ray 4K Ultra HD UHD di Archgon Puoi riprodurre dischi Blu-ray UHD nativi e upscalare i contenuti standard DVD e Blu-ray a una risoluzione ultra alta per un'esperienza visiva migliore Per finire, il numero 1 della nostra lista è TechPulse 120 UHD Il nuovo masterizzatore Blu-ray 4K UHD supporta l'ultima tecnologia di masterizzazione BD-ROM multilivello La masterizzazione e la riproduzione di contenuti 3D e la riproduzione Ultra HD Blu-ray È un ottimo strumento per creare la tua videoteca personale con video di alta qualità Ha una connessione USB 3.0 ultra veloce con connettore USB-C, compatibile con USB 2.0 e USB 1 Zero barra brucia e legge Blu-ray, DVD e CD La tecnologia M-Disc vi offre una soluzione unica per tutte le vostre esigenze di sicurezza dei dati Offrendo una sicurezza a lunga durata grazie alla registrazione su dischi M-Disc che sono progettati per resistere alle condizioni ambientali più estreme e durare mille anni Con la modalità di risparmio energetico integrata, il masterizzatore può essere lasciato acceso senza alcun problema La modalità Stand-by consente di ridurre l'uso di energia quando non si utilizza il dispositivo per lunghi periodi di tempo Verrai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto Grazie per aver guardato questo video Se ti è piaciuto premi il pulsante Mi piace e se non conosci il canale, iscriviti e premi l'icona della campana per ricevere gli aggiornamenti futuri